GONKEDU It's probably just the things I do That make me bite of you That's a breaking point in his soul I won't I never want Siamo a tutti ragazzi sono Caso Novanta E Rik Cicola sulla Underground Survival Con Alex e Vip E anche con il nostro pet Che visto la maggioranza dei voti Su un commento abbiamo deciso di chiamare GONKEDU Quindi il pet si chiamerà CONKEDU Che in sardo cioè in italiano Dal sardo all'italiano significa testa di cazzo Quindi lui sarà CONKEDU Glande ovvero Potremmo anche chiamarlo Glande Va bene lo stesso Quindi benvenuto a CONKEDU Welcome CONKEDU per oggi Ok Zio Piappa c'è anche un altro alberello L'ho uscito a raccogliare Ho spaccato l'altro per sbaglio Aspetta Ecco qui risulta la situa Allora cosa dobbiamo fare io direi di cercare diamanti e tutto Allora stavamo pensando una cosa Purtroppo prima di scendere Abbiamo preso tutto tranne una cosa I più attenti l'avranno visto Perché ci seguono proprio giorno e notte Guardano i video immagino Cercando ogni dettaglio Ale Ale Che cosa era Ale? Che cosa ci siamo dimenticati? Non me lo ricordo Sto aspettando che qualcuno di voi me lo dica Non lo so neanche io Sto aspettando te Ci siamo dimenticati le zucche Ah è vero Per fare il golem Per fare il go Dobbiamo cercare L'obiettivo qual è? Cercare un dungeon Perché a volte nelle chest si trovano Aspetta però Non ho torce Ce le ho io 16 Basta Si può fare Più che altro servirebbero cartelli Perché l'intenzione era quella di non perderci Eh lo so Sono già dimenticato da che parte siamo Andate pure tutto dritto Tu cominci ad andare Io vado a fare cartelli Ma cosa cominci ad andare? Sono il primo che si perde Ascolta facciamo una cosa Prepariamoci prima e poi andiamo Che forse è meglio Vip nel mentre farà Farà le robe per poter mangiare Farà la massaia Esatto Ragazzi è pronto No ancora no Tornate a casa Che il pipistrello stava per uscire Gonchedu Oh Gonchedu Non riuscire perché amici Sennò ti perdiamo Se esce di casa Allora ci serve tanto Lennio Direi le torce E volevo le faccio io Ne faccio Ne prendo 17 di carbono Torce Sennò E poi vediamo Ma quanto sei povcello? 4 Faccio cose Povcello Vediamo Io sarò l'addetto ai cartelli Ho fatto Se salita 4 più 4 torce 12 Ovvero Secchi d'acqua Cosa servono A Vip secchi d'acqua Esatto Secchi d'acqua Ah si L'abbiamo vista L'altra volta Alla fermo No vieni qua Aspè fermo Lancia 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 Almeno 2 Prendetene Che figo Sembra Si secchi d'acqua Perché? Faccio la confinita Per il coso Ok Allora quanti sei che abbiamo Uno E' uno Ma abri più C'è due Sette Noi abbiamo uno Già pieno d'acqua Quindi Ah ne serve solo un altro Allora Con che due Basta Aspè da un attimo Che mi faccio un piccone di ferro Nel caso troviamo oro Eh Vediamo Con che due Non c'è Non c'è Non c'è Non c'è Non c'è Non c'è In fatto che sto fisso parlando male Che volgare Oh appena di ferro Ah Sulla mia palla Ok possiamo andare Con che due Non uscire di casa Forever with you Con che due With you Fakingland Faking Esco prima Speriamo che non esca Anche con che due Eh ce la stava tentando Sta tentando di scappare Bisogna mettergli il guinzaglio E la museruola Per evitare Per evitare Per evitare Vip non farti morsicare Se no diventi un vampiro Vip non farti cucciare niente Ah metti i cartelli Ale scusa eh Eh aspetta Adesso lo metto Il primo è qui Metti una freccia Che dice Dicazione è bellissima Aspetta Ci penso io Non so cosa scrivere Fai un Un minore I trattini No aspetta Sto cercando È scritto a casa Eh fatto Potrei fare il stiloso Capito Fatto 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 Domu Ah ok In sardo Direttamente A casa Imparate il sardo Con noi Ok Allora io direi Prima di tutto Di prendere sto fermo Aspetta un attimo Perché ci servono Per fare le armature Tutto Siamo in molti Quindi Siamo in molti Siamo in parecchi In tantissimo Sì vi avvisiamo Che fra un paio di puntate Si uniranno i jumpit Ma no aspetta Già Da per favore Non ricordare quella storia Dovete sapere No vabbè Le storie di Alex Via Dovete sapere Inizia la storia Flap 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 Oh minchè ha rovinato la storia Ha rovinato la storia Stiamo registrando Fatene via Ciao No poveri No luca Si scherzando No Si scherzando Poveri Dici Sarò un fap fap Poi era una serie Aspetta che sto pieno Di prendere sto Dicevo Sono dimenticato Ecco vedi Ero vedi Ero avviata la storia Di papà castoro Papà castoro Vieni qui Di un bar castagna Allora E' una volta Giocando su un server Dating fortress Ma che mi fa Certo Cosa A parte che c'ho shaken fidget Aspetta che c'è il casino Vale ho vinto Facciamo quel cazzo che vogliamo Ormai Ale ho vinto Shaken fidget Si Hai dimenticato aperto Dai comunque Comunque una volta Giocando amabilmente Spensieratamente Su Qua cosa c'è Niente Su un server In fortress Era quello critici Giusto Era quello critici Italiano Però che adesso purtroppo E' chiuso Che la gente pensava fosse mio Mi chiedeva di mettere musica Esatto Gli italiani creduloni Esatto No e stavamo divertendoci Parlando al microfono Così A un certo punto Un iscritto al nostro canale Chieda a Vip Ma per caso tu sei Jumpy Perché di voce Evidentemente Ma non è vero Dietro Ma non è vero Ma non è vero Ma non è vero Ma c'è Mi c'è Ferrum Ho questo è un bivio Comunque Ma c'è uno zombie Metto un cartello Quindi essendovi Vip uguale a jumpy tech di voce Allora abbiamo fatto credere ad alcuni Che fosse davvero jumpy tech Ripeto che non è vero No vip è già Eh jumpy tech Che vip è jumpy tech Che ci siamo fatti regalare un sacco di cose Da un sacco di gente Tipo Forse voi Fatti regalare un sacco di cose No no Però ho detto Perché questi regali non li ho visti io Perché Non ti ho mai detto niente Allora qua serve una pala Ale mi sto perdendo Eh ti ho messo il cartellone Cartellone Aspetta che qua c'è una Parte Sembra figa Però è meglio scriverci casa Telefono casa Ce lo scrivo dappertutto A me è Don Clipper Casa Casa Però siccome è Vip non so cosa vuol dire Domu Non riuscirò a tornare a casa Eh capo Te ne mangi Cazzo resta Domu E parla in sardo lo stesso Tegu sta Domu Non la capisco Ho trovato una parte molto carina Molto figa che è già finita Ok Prendo prendo sto ferro Io mi sto perdendo Lo so già Non troverò Allora questo ferro Lo prendo io Perché ho capito Che tu sei snobbino Ma io ho preso il L'oro che c'era là vicino Quindi Tu ti dai a loro Oro 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 O altro ferro Ferro Qua c'è acqua Se avete un secchio vuoto Non c'ho un secchio vuoto Ce l'avete fatto Che pade E ce n'era uno già in casa Poi dopo Andiamo via Per non specare il ferro Ammerta così Quindi ricapitolando Vipergiampitex se volete Madonna Se volete Se volete Raggiuntere qualcosa Anzi regalatemi qualcosa Perché Non vuole Accetto un pc Volentieri Accetto un pc Che a caso Un pc Un pc E' vecchio Arroghedo Anche se è il primo dell'anno del pelo Lo stesso Eh Quattro ferro E' regalati Anche se è windows 95 Ce l'avete Comodore 64 Io un re Eh il commodore si Voglio soltanto l'alimentatore del commodore Perché il resto ce l'ho funzionato E' migliore del suo L'alimentatore No il mio alimentatore è purtroppo rotto Ah ok La regalatemi un alimentatore Lo sto facendo tutto Ok Mi sto divertendo a piazzere cartelli E' la cosa più interessante che io abbia mai fatto su minecraft Allora qua c'è lava Tu penso che sia andato di qui perché Oh se vado un luce e brucio Come un vampire Ascolta I Dobbiamo levarla questa acqua che c'è qua Oppure serve Dovremmo farci prima l'acqua infinita Cazzo Finchè non abbiamo l'acqua infinita Non toccate l'acqua Ok allora aspettavo da fare un altro secchio Ciao con che do number two Come te la passi Che do number two no Eh qua c'è un altro pipistrello No Sì Quello lo chiamiamo Oh guarda ferro Lo chiamiamo Boh Stanno sparando zombie se ci sono le Se c'è luce Se c'è la luce non dovrebbe Vabbè Pazienza Comunque i cartelli sono utili Non mi son perso Oh cazzo Che dentro di merda è dentro casa Come sgatturare La nostra massa è stata attaccata Corri in casa donna Corri in casa Nonna vai in casa proteggi i bambini Questa è ferro Bambini e gli animali domestici Esatto Sono rientrato ti metto Ti metto una torcia o due Oddi 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 dire butto sta roba ecco addentro questo è stato per 10 se puoi star zitto per 10 minuti per qualsiasi così mi addormento allora con meglio murare perchè sono cadiamo tutti nella scelta edo che non sono solo solo più ok di nuovo ora chi canta questa canzone il primo che mi risponde nei cori il portico il tuo giugno giugno io non ho l'arte di merda avevi molta cosa ferro avevo si ritroverà avversi parlato acqua attraverso era vicino il fatto è che probabilmente è caduto tutto non la fa come la perchè non so perchè adesso stanno laggando come i cristi infatti vi vado fermi oddio cosa è questa ma solo a testa laga c'è vip a te laga no ogni volta che muori e si ricarica il mondo ah ok e allora aspetta una comunque è poco devo essere tipo no Alex sei fermo davanti alla porta perfetto a me invece questa cosa non lo so scusa ma non c'era un secchio d'acqua eh l'ho preso io e sto facendo l'acqua infinita aspetta e vado a prendere l'altro secchio e ti faccio l'acqua infinita di davanti se non sbaglio dovevo andare da questa parte sappiate che in caso non so stare i server sono schifo non so stare i server e come dovrei o starlo scusa non c'è neanche niente caricando la linea è tutta per il server quindi devi fare un corso su come stare i server a parte o merda uno scheletro ragia ma anche le macchine mi ha colpito e manchini ma chi ti voglio allora ok sono morto esattamente qui sto rimorando ah hai messa dove sei morto tu dove ci sei tu mi aspetta cosa sei saluto quasi tutto nella lavata no aspeci un po' di legno oh c'è qualche piccone anche allora prova a vedere da io vado a portare l'acqua vip eh piassa casi no a 8 ho appopo ho appopo la ricetta chi???? p che falleva a lei ha detto perchè a 7 e ad abatro da stupida la e due del genere lo ho fatto il primo mondo lo abbandonato ás è stato prima lui mi ricorda qualcuno mi ricordo eh alex t t t scicc facciamo contatto è molto offensiva e nei confronti dei nostri iscritti ti consultiamo la mano non mi sembra il cast perchè vuoi male agli iscritti no fate che ogni volta li insultiamo prendiamo li prendiamo in giro per il nome no non è vero e non ho detto mai prendere in giro per la continuita tieni il secchio e lasciami secchi lasciami secco il secco ok i io direi di terminare qua questa puntata per adesso mentre poi tanto tanto continueremo continueremo direttamente a registrare però terminiamo qua la puntata ragazzi speriamo che vi sia piaciuto il tutto mentre gales continua a morire a fare il nabbo oh guarda vedo alex da qua è vero è piccolissimo e comunque ci vediamo presto alla prossima puntata qui sulla underground survival ciao a tutti ciao a tutti tu see that yes i cannot believe this very good woohoo let's go let's go let's go incoming let's do this that's what i'm talking about i am credit to team that was all you thank you here i come i am